Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla prima associazione autistica che nasce a Gela, si chiama Amautismo, era gruppo familiari di soggetti autistici e anche sostenitori. La associazione è presieduta dall'ingegnere Antonino Biondo che noi abbiamo sentito. Ingegnere, ma qual è la finalità vera e propria della associazione? Noi genitori dei ragazzi e dei bambini con autismo mettiamo il cuore nel mettere in risalto e in luce le problematiche purtroppo ancora non risolte presenti nel nostro territorio, e nella nostra città relativamente alle persone portatrici di questa sindrome. Ci sentiamo in questo momento, come dire, abbastanza delusi dell'assenza nel territorio, di ciò che traduca le linee guida regionali in una realtà concreta di assistenza e di sostegno per i ragazzi e i bambini disabili e per le loro famiglie. Ci riferiamo soprattutto ai centri diurni. Ci riferiamo in particolare ai centri diurni. Amautismo ci mette il cuore nel portare avanti determinati obiettivi, che sostanzialmente sono quelli di creare una rete fra i genitori, che consenta di avere consapevolezza e di accedere subito alla diagnosi e alle terapie, di avere sostegno reciproco e di darlo anche a quelli che al momento non sono iscritti ma che sicuramente parteciperanno dopo, e quindi creare, sostenere, promuovere la creazione di strutture adeguate, professionalmente valide, che possano accogliere i ragazzi con autismo, particolarmente nell'età post-scolare, nel momento in cui non esiste appunto la guarigione, ma esiste la necessità di dare concretezza, di dare spazi, di dare significato alle persone affette da autismo, che hanno necessità quindi di avere una loro realizzazione, un loro punto di aggregazione, di avere degli impegni che vanno realizzati in ore e che la famiglia da sola non potrebbe sostenere. Cosa vi ha lasciato il Blue Day e cosa vi ha insegnato, Samuele, il ragazzo autistico che è riuscito a diplomarsi? Per noi il Blue Day dura 365 giorni l'anno, il fatto che ci siamo incontrati e conosciuti ha fatto sì che ci mettessimo insieme, ne discutessimo, traducessimo quelle che erano le problematiche in obiettivi, in quello che gli inglesi chiamano una mission, cioè una serie di punti che intendiamo portare avanti, uno dei quali gliel'ho detto la rete, un altro è quello del rapporto con le istituzioni, per accendere i fari a questo punto su tutte quelle che sono le carenze presenti nel territorio, chiedere un dialogo, fare progetti comuni, sia con le istituzioni che con le altre associazioni che vorranno farlo, in primo luogo quindi promuovere tutto quanto può portare concretamente a realizzare quei centri, quei punti di aggregazione e a soddisfare quelle necessità che attualmente sono disattese. Per noi Samuele è stato un momento di grande gioia perché ha acceso ancora di più i riflettori su questa problematica, oltre a rappresentare un momento di gioia fra amici da condividere. Ha posto determinate domande, ha accentrato l'attenzione su questa problematica, anche con tutte le considerazioni che possono essere tratte a latere, ma sostanzialmente ha posto un problema. Abbiamo dei cittadini di Serie A come tutti gli altri, che hanno dei diritti, che vanno rispettati, che la legge già prevede, che semplicemente non sono stati realizzati. Noi con Amautismo ci mettiamo il cuore nel far sì che questa accensione di luci, questo illuminare i problemi, non si traduca in un pietismo, ma si traduca in una realizzazione di quanto ancora non è stato fatto, particolarmente in una realtà trascurata come Gela. Chiedo all'amministrazione comunale di evitare proclami, servizi stampa e comunicati a tutte le parrocchie della città o a tutti i condomini e di impegnarsi ad ordinare a chi di competenza di effettuare il servizio in maniera impeccabile, senza interruzioni, evitando di raccogliere poi tutto indifferentemente e fare annunci pro differenziazione. Riconosco che tanta strada è stata fatta negli ultimi due anni di sperimentazione sul campo, ma tanta ce n'è ancora da fare, perché dunque tornare indietro? Lo dice Alessandra Ascia, presidente del Consiglio Comunale di Gela. Il presidente della Sisee Civica si chiede a chi conviene non guadagnare in termini di salubrità ambientale ed in termini economici ed estetici si deve compiere tutti assieme, dice ancora Alessandra Ascia, un passo in avanti per buttarci alle spalle il passato di una raccolta costosa e ingombrante che è invaso di scariche e città intere. L'amministrazione ha adotti sistemi di dialogo costruttivo con i cittadini per meglio far comprendere il valore della differenziata per raggiungere lo scopo con una collaborazione cosciente piuttosto che con multe e registrazioni video. Si adottino pure sistemi premiali che rappresentano un incentivo convincente per i cittadini più ostinati, perché l'ambiente è di tutti e tutti assieme dobbiamo salvaguardarlo con la differenziata cosciente e responsabile. Adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di arresti, denunce e controlli eseguiti a Gela nelle ultime ore. Se non si fosse fidato della loro opera di procacciatori d'affari avrebbe dovuto pagare una somma consistente di denaro oltre a quella già sborsata. Sì, perché la vittima, un facoltoso gelese di mezz'età, aveva già dato dei soldi, migliaia di euro pagate in due diverse occasioni, convinto di avere un debito ingente nei confronti dell'Enel. Ma si trattava di una truffa vera e propria. E' quanto scoperto dalla polizia del locale commissariato. Due le persone arrestate e tradotte ai domiciliari. Si tratta di Antonio Landi, 26 anni, e di Emanuele Comito, 27, già noti alle forze dell'ordine. Sono stati fermati dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre ricevevano del contante, un inganno reiterato nel tempo. Per non adessare sospetti, i due arrestati indossavano anche la divisa in dotazione agli impiegati dell'Enel. La polizia di Gela raccomanda ai cittadini di diffidare assolutamente da sedigenti addetti Enel che offrono contratti vantaggiosi in cambio di somme di denaro. Si tratta, spiega una nota del commissariato, di procedure non riconosciute dalla società in questione. Se il cittadino venisse contattato, è importante segnalarlo subito agli uffici di polizia. E nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di abusivismo commerciale e contraffazioni di marchi e disegni distintivi in genere e della verifica della corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia di diritti d'autore e illegita duplicazione polizia, carabinieri, guardie di finanza, polizia municipale e capitolaria di porto hanno passato al setaccio il lungomare Federico II di Svevia e i mercatini rionali. 32 le persone identificate, di cui 12 extracomunitari, elevato un verbale amministrativo per vendita abusiva a carico di un cittadino bengalese sprovvisto di licenza itinerante. 14 verbali per occupazione di solo pubblico, 4 per violazioni al regolamento comunale, una contestazione in materia di canone Rai e due verbali di contestazione sulla normativa dei registratori di cassa. Il servizio sarà ripetuto per tutta la stagione estiva. Sempre la polizia di Gela, diretta da Francesco Marino, ha denunciato 4 persone per diversi reati e ha controllato, assieme al personale della squadra nautica, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento con serate danzanti e centri internet e scommesse. 10 le attività ispezionate, 2 le infrazioni contestate e 51 le persone controllate. Lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva delle sanzioni detentive è quanto stabilisce una convenzione sottoscritta al Tribunale di Gela tra il Presidente Paolo Fiore ed il coordinatore dell'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, Orazio Coccomini. In particolar modo si tratta di persone che sono state fermate per guida in stato di ebrezza oppure per altre violazioni di non eccessiva rilevanza e che vengono condannate a scontare pene alternative su richiesta dell'imputato con lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso la struttura operativa dell'associazione in Via Falcone in Contrada Brucazzi. La riabilitazione di chi sconta una pena nell'ambito della giustizia riparativa ha detto Orazio Coccomini ha un doppio valore. Da una parte viene saldato il proprio debito con la giustizia svolgendo attività volontaria e non retribuita in favore della collettività, dall'altra la conoscenza ravvicinata del mondo del volontariato che lascerà un segno di maggior consapevolezza sul ruolo attivo che ognuno di noi può e dovrebbe avere nella società. Manca poco al ferragosto e quel giorno segna il momento di massimo sforzo per gli uomini della Capitineria di Porto impegnati in elaborazione denominata Mare Sicuro. La Guardia Costiera ha disposto un incremento dei servizi di battuglamento navale e terrestre. Vediamo. Buongiorno dalla Guardia Costiera di Gella, ci troviamo qui nella sala operativa della Capitineria di Porto di Gella e oggi parliamo del ferragosto, di quello che è il giro di boa dell'operazione Mare Sicuro 2016 e i giorni più critici e più caldi di questa operazione. Fino adesso il bilancio è stato abbastanza positivo, grosse criticità riscontrate sono state subito superate perché abbiamo avuto due o tre interventi di soccorso e qualche chiamata di assistenza. Qual è il dispositivo di Mare Sicuro 2016 della Capitineria di Porto di Gella per questo ferragosto? Il dispositivo è semplice, ci sono le uscite delle nostre motovedette congiuntamente a quelli della Polizia di Stato che pattuglieranno il litorale gelese, quindi la costa di Gela e di Butera, con delle uscite giornaliere sia mattina che pomeriggio. Invece il personale a terra verrà impiegato in una doppia squadra rinforzata quindi e pattuglierà le coste di competenza sia mattina che pomeriggio. Il personale comunque reperibile e operativo sempre H24 per qualsiasi intervento di ricerca e soccorso in mare. Il tempo sarà ottimo, quindi sole e prevalentemente soleggiato con la brezza marina che ci sarà nelle ore più calde. Il numero blu 1530 è attivo 24 ore su 24 e con questo vi auguriamo un buon ferragosto. La società cooperativa sportiva dilettantistica Poseidon anche quest'estate gestisce la soveglianza balneare nelle spiagge libere di Gela. Sono tre le postazioni e sono collocate, lo ricordiamo, una incontrata a Manfria in prossimità del Lido Orlando, un'altra a Macchitella in prossimità della Clinica Santa Barbara ed un'altra tra il vecchio puntile sbarcatoio e il Lido, la Conchiglia. Il servizio si protrarrà fino a martedì 6 settembre con il raddoppio degli assistenti bagnanti nel periodo di ferragosto. E' tutto pronto per il Ferragosto d'Italia 2016. Si tratta della sesta edizione, tre giorni di musica e spettacolo. Si parte questa sera sul litorale di Mariana di Putera nella spiaggia adiacente il Lido Panama Beach. L'evento gratuito, più grande del sud Italia, ha in serbo tante novità. Sul fronte della sicurezza e della viabilità, quest'anno abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili, da istituzioni di sensi unici a istituzioni di divieti di transito e zona rimozione forzata per cercare di avere il massimo della viabilità e della sicurezza. Ma quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa che non si è mai fatto durante questo tipo di manifestazione. Abbiamo istituito, l'organizzazione insieme alla GbOil, un servizio di navetta gratuito, questa è una cosa molto importante, gratuito. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che i nostri ragazzi, i nostri giovani verranno qui nel parcheggio di GbOil, potranno benissimo utilizzare questo parcheggio e i parcheggi circostanti, lasciare la macchina, prendere questa navetta e arriveranno direttamente sul luogo della festa, per tutta la durata della festa sia all'andata che al ritorno, cioè dalle 20 fino alle 3 per l'andata e dalle 4 di mattina fino alle 6 del mattino per il ritorno. Quindi in questo modo evitiamo sia ingorghi che anche pericolosi spostamenti perché ricordiamo che da GbOil fino a Marina di Butela e l'evento sono circa 15 chilometri di strada, non sono strade larghissime, bellissime quindi noi abbiamo pensato quest'anno di fare anche questo servizio speriamo che i ragazzi lo utilizzino in pieno. Tre giorni di manifestazioni, un vero e proprio festival della musica. L'iniziativa porta la firma della associazione culturale Suoni e Visioni in collaborazione tra gli altri con Radio Jala Express. Già da stasera ci sarà il primo giorno che sarà dedicato alla musica live con dei gruppi reg molto importanti del panorama siciliano il giorno dopo, cioè la notte del 14, avremo una festa dedicata alla musica commerciale e il giorno 15, la notte del 15, avremo una festa dedicata alla musica house tutto questo sempre nell'ambito della dance, tutto dance oriented sia il gruppo live che le tre serate successive. Proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese, oggi alle 21, nello spazio antistante la parrocchia San Rocco, teatro parrocchiale con la rappresentazione di Taspetto in Paradiso domani alla stessa ora nel piazzale della chiesa, serata Folche con l'associazione culturale Sergio Di Dio. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale, concerto lirico del duo Giuliana Consiglio, soprano e Fabrizio Aquilina, pianoforte, oggi alle 21.15, nell'ex monastero delle Benedettine, nell'ambito dell'iniziativa L'Estate Giovese con la musica colta, promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. Collocate le docce pubbliche e le passerelle a Manfria, vediamo. Anche a Manfria le docce pubbliche sono arrivate, sono state installate oggi grazie alla collaborazione di Vino Acquedotti che ci ha dato un punto di fornitura d'acqua 24 ore su 24 acqua corrente dove il Comune ha installato una doccia uguale a quelle che sono state installate lungo tutta l'arenile che va da Machitella fino al fiume Gela. Quindi finalmente a Manfria la prima volta ci sono le docce pubbliche, finalmente a Manfria c'è l'acqua, finalmente, questa è una cosa da sottolineare, questo è un altro piccolo passo avanti, anzi importante passo avanti per poter migliorare la visibilità delle nostre spiagge. Un intervento importante per il turismo, abbiamo installato l'ottava doccia anche a Manfria e dopo quelle che abbiamo installato a Luncomare e a Gela. Un altro tassello importante, oltre a quello delle pedane, per rendere ai meno fortunati o ai diversamenti abili l'accesso alle spiagge. Un apprezzamento particolare volevo farlo anche ai privati che ci hanno anche sostenuto come la Divina Acquedotti che ci ha aiutato anche con l'installazione di una delle numerose passarelle che abbiamo installato. La pagina dello sport sarà in trasferta il debutto del Gela nel campionato di serdì di calcio. I Biancazzurri domenica 4 settembre saranno di scena a Pomigliano in Campania. L'esordio tra le Muramiche è previsto la settimana dopo contro il Sersale. Intanto la società presieduta da Francesco Luccio ha tesserato tre nuovi giocatori. Si tratta di Romito Budales, centrocampista, 19 anni, proveniente dal Trapani. Del terzino sinistro Alessandro Cappello, 18 anni, l'ultima stagione all'Acragas. E dell'attaccante Damiano Lia, 19 anni, proveniente dalla Messina. Oggi vi facciamo conoscere l'attaccante Santino Biondo e il difensore Angelo Bruno. Comincia la nuova stagione. Per il Gela è chiaro che si parte dal presupposto che bisogna subito raggiungere la salvezza. Però dalle parole del direttore sportivo Martello, dalle dichiarazioni del tecnico Bruccoleri, è chiaro che la salvezza credo sia il minimo per il Gela, per una grande piazza. Dunque sostanzialmente si punta a qualcosa di più importante. Certo, intanto come dice lei, Gela, parlare di salvezza è riduttivo. È riduttivo. Quindi pensiamo a fare un buccappionato ed arrivare il più in alto possibile. Te ne hanno parlato di Gela, qualcuno? Conoscevi già la piazza? Per sentire dire sì. È una grande piazza, detto da tutti comunque. Il tuo ruolo che predirigi in campo qual è? Estendo d'attacco. E trovi i compagni già adatti anche allo schema che sta preparando il tecnico Bruccoleri? Sì, sì. E cosa possiamo promettere ai tifosi del Gela? Considerato che diciamo poc'anzi che la salvezza credo sia oramai il punto di partenza per puntare ad alto. L'unica cosa che posso promettere è il massimo impegno di tutti e massima professionalità. Ecco, c'è una squadra secondo te che in questo campionato di 3D, che partirà al più presto, può puntare al salto di categoria? Sinceramente non lo so. Mettiamo il Gela? Mettiamolo. Ci proviamo. Ci proviamo. Per me è un onore indossare la maglia del Gela innanzitutto e come calciatore ti posso dire che, come ha detto lei, indossare la maglia del Gela è un onore e bisogna dare sempre il 100% sia per i tifosi che per la squadra. Cerchiamo di dare il massimo tutte le partite. Ma quando hai ricevuto la chiamata da parte della società ci hai pensato un attimo oppure hai detto subito sì a prescindere? Ho detto subito sì a prescindere perché, ti ripeto ancora una volta, indossare la maglia del Gela è un onore, sempre un onore. Ma cosa ti hanno detto del Gela, considerato che è la prima volta che tu sbarchi nella città del Golfo? No, mi hanno consigliato un sacco di persone che hanno giocato nel Gela ai tempi della vecchia C1 e sono stato subito convinto sia dalla città sia per il calore dei tifosi e per tutto quanto. E il minimo puntare alla salvezza, poi c'è di più? Sì, c'è sempre di più, bisogna sempre portare in altro. Ma cosa si punta? Non diciamo alla promozione diretta in Lega Pro, quanto bene per le off? Ci provate? Si punta sempre a fare bene partita dopo partita, poi il resto si vedrà avanti. Voi ce la metterete tutti? Sempre. Appuntamento col teatro, venerdì 19 agosto alle 21.30 all'antidoto di Macchitella a Gela di Scena, la compagnia teatrale Antidoto in Don Quixote e San Ciupanza. Il costo del biglietto è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi, vi rimandiamo alle prossime edizioni, vi auguriamo un buon ferragosto e appuntamento alle prossime edizioni del TG10. Grazie.